Tanta sofferenza, due ore abbondanti di gioco in un match contraddistinto da parziali e controparziali, ma alla fine nel tie-break l'Ace di Leon consegna alla Sirsafetikonad Perugia gara 1 della serie di semifinale play-off di Superlega, al cospetto di una vero volley Monza che ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, tutto il suo valore. Una serata con Perugia sulle montagne russe, prima costretta a rincorrere dopo il primo set vinto da Monza 21-25, poi brava a reagire e a portarsi avanti, ribaltando la situazione nel secondo e terzo set, vinti 25-21 e 25-19. Poi, sul 20-16 nel quarto, è stata rimontata dai prianzoli, che la spuntano 23-25, rimandando il verdetto al tie-break, dove Perugia ha la meglio per 15-12, portandosi dunque sull'1-0 nella serie. Tre i Block Davils in doppia cifra, il best scorer del match Leon con 25 punti a referto, Plotnischi che ne mette 12 e Solè che chiude con 10 in un match che ha confermato le complessità che sta attraversando Perugia, che deve ancora riprendersi a pieno dal contraccolpo della recente eliminazione dalla Champions League. È un momento difficile per noi, le scorie della Champions League sicuramente ci sono ancora, è stata una bella botta, abbandonare il sogno europeo non è facile, però ci sono i play-off, una semifinale fantastica di Scudetto davanti, però oltre alle scorie sicuramente stiamo attraversando un momento difficile, perché non riusciamo a giocare come giocavamo prima, ci alleniamo pochissimo, giochiamo sempre, siamo anche un po' pieni di pensieri, perché facciamo fatica, contro Milano abbiamo fatto fatica, contro Trento abbiamo fatto fatica e siamo usciti, contro Monza abbiamo fatto fatica, quindi sai, far fatica ti riempie un po' la testa di spazzatura, però credo che la capacità di un grande gruppo sia proprio quella di vincere in queste situazioni e comunque la semifinale Scudetto, quindi soffrire è brutto ma ci sta. La serie si sposta ora a Monza per gara 2 in programma mercoledì 31 alle ore 18, dove si preannuncia un'altra battaglia e dove sarà fondamentale una buona correlazione muro-difesa guidata dall'Eterno Colaci, che doltre ad essere un fattore imprescindibile in ricezione, si dimostra anche una guida in campo per i compagni, soprattutto nei momenti difficili, come quello che sta attraversando Perugia, chiamata in terra bianzola, ad alzare il proprio livello di gioco senza abbassare la guardia dal punto di vista attenzionale e temperamentale. Lo spirito non deve mancare mai, il saper reagire alle difficoltà, questo non deve mancare mai, perché nei momenti in cui non sei al 100% è l'unica cosa che ti può aiutare. Io faccio sempre degli esempi, prendo una murata ma ti faccio male, le mani devono diventare rosse, o subisco un ace, ti guardo, batte ancora qui, perché non lo fai più. E' questo che dobbiamo avere, questa idea, questo atteggiamento, perché poi a questi livelli, insomma, sono tutti bravi a livello tecnico, a livello tattico, quindi l'atteggiamento e lo stare in campo, l'unione in campo può fare la differenza.